Con la ripresa della pandemia si torna a parlare di antivirali, farmaci che limitano il rischio di ospedalizzazione per gli anziani e le persone fragili. Eppure, finora, il loro uso non è decollato, probabilmente a causa del fattore tempo che impone la loro somministrazione entro cinque giorni dai primi sintomi. Dall'inizio della disponibilità nella ASL Toscana Centro, i centri ospedalieri hanno autorizzato 698 antivirali ed altri 328 sono stati prescritti dai medici di famiglia. Peggio è andato nelle altre ASL. Agiscono sul virus bloccando la sua replicazione, dice Massimo Di Pietro, direttore Malattie Infettive 1 a Firenze e Empoli e coordinatore per la ASL Toscana Centro delle Malattie Infettive. Negli studi la loro efficacia si è dimostrata ottimale nei pazienti fragili, si è somministrati nei primi giorni di malattia. L'inizio precoce è il vincolo principale, la prescrivibilità ai medici di medicina generale, la prospettiva di coinvolgimento dei pronto soccorso e dei medici di continuità assistenziale va proprio in questa direzione. Per il resto, verificato che non ci siano interferenze con terapia in corso, sono farmaci sicuri con modesti effetti collaterali come mal di testa e qualche disturbo gastrointestinale. Riducono significativamente il rischio di ospedalizzazione, dice ancora il dottore della Nazione, se somministrati nei tempi corretti a pazienti fragili con patologie correlate alla malattia severa e all'ospedalizzazione. Anche se la maggiore protezione rispetto alla malattia grave e al decesso resta la vaccinazione completa. Gli antivirali riducono comunque ulteriormente questo rischio, li consiglierei senz'altro ai non vaccinati.